cari amici di visione tv benvenuti a un nostro nuovo appuntamento il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è carlo alberto brusa avvocato nonché presidente della associazione reazione 19 ciao grazie per essere con noi buongiorno francesco grazie per avermi invitato grazie a te per aver accettato tu vivi in francia da tanti anni eserciti lì alla professione di avvocato e hai ultimamente presentato una denuncia in procura perché sospetti delle irregolarità nel voto francese puoi spiegare a chi ci ascolta di che si tratta bene ho esposto uno sport o denuncia con 6.000 persone che hanno sostenuto questa dinamica giudiziale poiché abbiamo constatato prima di tutto delle problematiche nel contagio dei voti che arrivavano direttamente al ministero degli interni e anche alla televisione francese in una situazione che era abbastanza paradossale dove i numeri che apparivano nel deconto per Marine Le Pen erano a un certo punto superiori a quelli di Macron e poi quello che è successo in maniera totalmente inaspettata questi numeri sono cambiati e sono scomparsi con un ritorno di numeri superiori per Macron nei confronti di Marine Le Pen. Questo è quello che è apparso agli occhi di tutti allora France 2 la televisione francese si è difesa dicendo ah è un errore del del sistema informatico di colui a cui abbiamo dato l'appalto non c'è nessun broglio tutto questo è stato un proprio errore e questa è stata la scusa che è stata posta in essere ma noi come avvocati ma anche il collettivo che mi ha dato in carico per sporgere la denuncia abbiamo degli elementi che certificano che la situazione nella gestione dei voti è molto complessa poiché oggi noi in Europa e segnatamente in Francia tutto quello che riguarda il cloud la gestione informatica del ministero degli interni e nonché del ministero della giustizia nonché dell'Eliseo tutti questi cloud sono negli Stati Uniti e legalmente parlando è inaccettabile che il nostro sistema elettivo che sia il sistema elettivo francese che sia il sistema elettivo italiano sia tra le mani comunque di potenza straniere e che le informazioni che derivano dalle elezioni vadano prima negli Stati Uniti in centri di gestione informatica che sono in più negli stessi hangar e nelle stesse zone in cui si trovano anche le società di controllo per lo Stato americano legate al Patriot Act, alla CIA e all'EVI perché in realtà tutte le informazioni che sono detenute da società americane possono fare l'oggetto di controllo da parte dello Stato americano. Quindi quello che abbiamo disposto non è solamente il broglio elettorale ma proprio l'illegalità della situazione attuale in cui noi ci troviamo in cui la gestione dei data cioè delle informazioni che siano ministeriali che siano elettive eccetera sono tra le mani delle potenze straniere cioè dell'America. Esiste un articolo, l'articolo 411.6 del codice penale che dichiara un crimine trasmettere a una potenza straniera informazioni che rilevano della nazione francese ed è punito di una pena di 15 anni nonché di un'ammenda penale colui che effettua questo tipo di comunicazione. Quindi noi abbiamo depositato questo esposto al Consiglio Costituzionale Francese che in Francia si chiama Consiglio Costituzionale e non Corte Costituzionale e la cancelleria ha dichiarato il nostro ricorso improcedibile dicendo che era stato fatto fuori termine poiché non abbiamo contestato nelle 24 ore dell'elezione. Ciò è completamente sbagliato. Primo perché la cancelleria non può decidere se un ricorso è procedibile o non lo è. Secondo punto è che noi non abbiamo disposto un ricorso per quanto riguarda i brogli che sono stati commessi in uno scrutinio o da uno scrutatore ma un broglio che è legato a quella che viene chiamata la frode. La frode vizia tutto ed è per questo che oggi l'elezione di Macron è un'elezione illegittima e illegale. Avete degli strumenti per opporvi a questa richiesta di archiviazione? Ormai la partita giudiziaria è chiusa. Abbiamo degli strumenti e trasformeremo quello che viene chiamato un ricorso che è stato fatto al Consiglio Costituzionale in un ricorso criminale. Depositeremo un esposto al giudice istruttore perché il sistema francese è diverso da quello italiano. Quello italiano prima era legato fino al 1989 al sistema come quello che abbiamo in Francia con il giudice istruttore che viene addito da una parte civile. Adesso in Italia voi avete costruito un sistema accusatorio. Noi no. Noi quando si tratta di un crimine abbiamo il diritto di dire direttamente il giudice istruttore che deve aprire un'inchiesta penale che non può archiviarla automaticamente. Quindi diciamo tu intravedi delle similitudini tra quanto è accaduto con l'elezione di Macron in Francia e le elezioni contestate che hanno visto vincitore Biden in America? Ci sono dei punti di contatto? Ci sono dei punti di contatto. Per quanto riguarda l'America la situazione è complessa poiché la problematica in America non si vuole poiché i cloud sono americani. Ma oggi quello che abbiamo, le informazioni che noi abbiamo ottenuto da persone che sono legate all'elezione 19 è che oggi al Ministero degli Interni possono riuscire a modificare il 3-4% dei voti senza alcuna difficoltà interferendo a questo livello. Ora quando uno sa che le elezioni ultime sono vinte con due o tre punti, cambiare di tre punti o quattro punti un deconto informatico tramite informatica è una cosa che può cambiare una elezione. Quindi oggi non abbiamo più con il voto informatico la certezza e la certezza di avere una lezione legittima. Questo vale per la Francia, vale per gli Stati Uniti, ma può valere per tutti i paesi che oggi in Europa hanno una gestione informatica e numerica delle loro informazioni, soprattutto quelle legate anche alle sicurezze dello Stato che non sono più detenute semplicemente in Italia ma detenute in Francia, ma sono ormai tra le mani dei big data americani e questo non è complottismo, questa è una realtà perché ho tutte le prove, ho gli indirizzi, i luoghi in cui i cloud sono depositati e vengono gestiti i dati numerici francesi dei grandi ministeri. Il paradosso è che i grandi ministeri che sono quelli dello Stato sono gestiti negli Stati Uniti e quello dello sport per esempio è gestito qui, cioè quella cosa pazzesca dimostra che i ministeri più delicati, quelli in cui dovrebbe essere la più grande protezione, nonché i servizi segreti, il cloud dei servizi segreti è negli Stati Uniti, amici miei. Quindi questa è una cosa che dimostra, che è anche dimostrabile per l'Italia, perché? Perché noi in Europa non abbiamo un sistema di cloud gestito nei fondali sottomarini del Mediterraneo per esempio, noi abbiamo tutti i dati che sono gestiti da Microsoft, da Amazon, da tutte le grandi big data che sono anche i Twitter eccetera che ormai gestiscono, sono diventati dei gestori di informazione e tutti i cloud poi fisicamente sono nella baia di San Francisco depositati a 25 metri nel fondale per raffreddare. Cioè quindi vuol dire che stiamo vivendo una situazione in cui prima di tutto non esiste un accordo Europa-Stati Uniti, un trattato che protegga gli Stati Europei di tutte le informazioni che riguardano tutti i cittadini, poiché il private shield è stato annullato dal Consiglio, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quindi abbiamo oggi una situazione globale di totale illegalità per quanto riguarda quello che viene chiamata la gestione delle informazioni, che sia nella gestione quotidiana, come gli acquisti che vengono effettuati, le transazioni economiche e commerciali e dall'altro lato le problematiche elettive. Senti, tu prima dicevi della società del controllo, cioè dell'utilizzo di questi strumenti big data per imporre un controllo totale, non soltanto negli Stati Uniti ma anche nelle realtà che dagli Stati Uniti sono influenzate. C'entra nulla l'introduzione di uno strumento come il Green Pass con questa strategia che tu hai delineato? Ma stai dicendo una cosa giustissima. Il Green Pass e tutto quello che è stato costruito negli ultimi mesi durante la Covid sono state le prime operazioni che sono state poste in essere per vedere un po' come andavano le cose. Cioè in realtà attraverso l'accettazione del popolo del Green Pass, del Super Green Pass, dei controlli con il QR Code, con tutte queste formule, hanno visto che la gente si piega, che la gente accetta per arrivare poi a una fase successiva, che è quella del controllo biometrico e il controllo numerico, poiché vi ricordo, e ve lo dico con grande forza, che stiamo lavorando con un esposto che fa cento pagine scientifiche, che le vaccinazioni e quello che viene stato utilizzato comporta l'iniezione di un prodotto che si chiama il grafene. Il grafene è un prodotto che è un... Ecco no, ma come fai ad essere certo tu della presenza del grafene in questi prodotti? Perché abbiamo, prima di tutto, la spettometria che è stata fatta dei vaccini, che è stata fatta dal professor Jung, che abbiamo già messo sul sito di direzione 19 il 28 agosto del 2021, che il rapporto di Jung non è stato contestato come non sono stati contestati le altre analisi in cui appare il grafene presente in ogni iniezione Pfizer-BioNTech. E in più la Pfizer ha riconosciuto negli Stati Uniti aver utilizzato il famoso brevetto del grafene fluorescente, che ha utilizzato ed è stato introdotto in ogni fiala. Perché l'ha riconosciuto? Poiché non era un suo brevetto e per poter evitare di essere condannata ad un indinizio miliardario per aver utilizzato un prodotto di cui non aveva il diritto, ebbene ha detto sì l'ho utilizzato, ma l'ho utilizzato nell'ambito di quella che viene chiamata la politica sanitaria della Food and Drug Administration. Quindi posso giuridicamente utilizzarla perché l'ho fatto per la protezione della salute. Ora, il grafene, che non è un complotismo, perché il grafene è un prodotto incredibile, può essere utilizzato a dei fini estremamente utili. Per esempio può essere messo sui denti, in bocca, per poter determinare le patologie, ma questa non è una cosa assurda, ci sono i brevetti che sono attipositati, ma la cosa che la gente non sa è che il grafene vale come un mini computer, cioè è un grande come un atomo può essere messo nel corpo, è un conduttore straordinario, poiché un elettrone viaggia a mille chilometri al secondo all'interno del grafene, e in più, oltre ad essere un supraconduttore, può funzionare come una specie di memoria di computer. Quindi il meccanismo del codice alfanumerico che l'Unione Europea ha già posto in essere, che l'OMS ha già posto in essere come meccanismo di controllo, non è una cosa assurda, fa parte di quella che è la logica migratoria degli anni a venire, in cui la gente si sposterà e per non effettuare questo controllo individuale con un poliziotto dietro ogni persona, ci sarà il meccanismo del controllo sanitario, ma in realtà il sanitario è un espediente, perché attraverso il controllo sanitario si possono avere tutte le informazioni legate alla persona, perché oggi per esempio quando uno ha un passaporto biometrico, non è che si tratta solamente dell'identità, ma immediatamente quando tu sei nel portale che sei presente e ti sta controllando, la macchina non controlla solo la tua identità, controlla anche tutte le informazioni che rilevano e sono legate a te come persona, come eventuale terrorista, eventuale insurrezionista, poiché per esempio ci sono persone oggi che arrivano negli Stati Uniti e che sono rinviate a casa poiché avendo espresso opinioni dure contro l'America, aver esposto analisi contro l'America, tutto ciò è stato già memorizzato nel cloud delle informazioni legate al signor Tizio Carlo Sempronio, che pur avendo l'Esta il diritto di essere partito, quando arriva sulla frontiera americana viene rimandato a casa. Quindi oggi il controllo individualizzato, il controllo numerico attraverso gli algoritmi, la centralizzazione e la creazione dell'identità numerica trasversale, non solamente l'identità come Carlo Alberto Brusa memorizzato in un computer, ma come identità numerica che comporta un insieme di informazioni, l'abbiamo già avuto con il QR code che per il momento è esterno, è nel telefonino. Quando tu hai il QR code non è solamente la tua identità, il QR code è un controllo numerico perché quando tu fai scattare il QR code entra in atto tutto un process informatico che permette alla radice di legare tutte le informazioni della persona, informazioni sanitari, informazioni sociali, informazioni economiche, informazioni poliziesche, tutto questo non è fantascienza. È una realtà che abbiamo in questo atto, che stiamo lavorando anche con degli avvocati italiani, poiché questo esposto sia fatto in ogni paese d'Europa. E concludo, io ho scoperto quali dei miei collaboratori erano vaccinati, poiché con un telefono che è oggi sotto sigillo, che viene depositato con questo esposto, ebbene io ho visto i codici alfanumerici apparire. Quando i miei collaboratori entravano all'ufficio dicevo, ah sei vaccinato? Sì, perché come fa a saperlo? È apparso il tuo codice alfanumerico. Questa è la realtà. Quindi oggi possono trattarmi da complottista, da pazzo. Io ho 60 anni, faccio l'avvocato seriamente, lavoro su prove. E quello che dico e affermo, e lo affermo, ingaggiando la mia responsabilità personale, e quello che faccio da due anni e un mese, con centomila persone che sono membri dell'associazione, tutto ciò che dico lo scrivo ufficialmente. Io esercito qui a cento metri dall'Eliseo, a cento metri dal Presidente della Repubblica. E se fossi un pazzo, rivoluzionario, che dice delle menzogne, che inventa cose, sarei già stato arrestato da tanto tempo. E tutto ciò che dico e tutto ciò che scrivo è sul sito, poiché qui comunque, a cento metri dall'Eliseo, sono controllato dalla mattina alla sera. 24 ore su 24. Quindi ciò che dico, se uno vuole contestarmi non me lo contesta con prove, perché io ho le mie prove. E ciò che ho sempre esposto, l'ho esposto con le prove di base. Quando abbiamo detto che c'era un'istorsione di consenso con i vaccini, Coggi è corroborato perché il pass ha funzionato come un istorsione di consenso, poiché quante sono le persone che sono vaccinate non per coscienza sociale, umano, sanitaria, poiché se non erano vaccinate non potevano lavorare. E oggi abbiamo una prova degli effetti collaterali, abbiamo una prova dei decessi, abbiamo una prova che Pfizer sapeva che la gente moriva, che oggi abbiamo giovani che sono morti, abbiamo una ragazza che ha ricevuto un indennizzo di quanto vale una vita umana, 77 mila euro per una persona... Per una ragazza italiana che si chiama Toscano ha avuto 77 mila euro. Però evidentemente il popolo francese di tutto questo non si rende conto perché continua a votare uno come Macron che è stato uno degli alfieri di questo meccanismo, non che Marine Le Pen avesse fatto una battaglia forte contro questa impostazione, cioè l'oligarchia alla fine utilizza i politici come burattini intercambiabili sia in Italia che in Francia. Sì, però il voto oggi è l'elezione di Macron e si è giocata a qualche punto, cioè quindi non c'è più, è stata vinta per un lavoro di propaganda straordinario e poiché comunque Marine Le Pen con la sua storia passata, la figlia di suo padre, cioè una fascista, tutti hanno posto ancora, hanno votato con le dita come dice sul naso, con la puzza sotto il naso. Quindi oggi non c'è una legittimità di Macron assoluta che permetta a Macron di dire oggi sono eletto, posso fare tutto. Oggi c'è una grandissima fragilità. Ci sono 15 milioni di persone che non sono state vaccinate in Francia. Non parliamo di due milioni, parliamo di 15 milioni, parliamo di diversi milioni di persone che oggi non fanno più la terza dose e che si sono fermati. Quindi oggi la gente ha cominciato a svegliarsi. Il fatto stesso che la mia associazione abbia raccolto centomila adesioni solamente facendo il diritto vuol dire che comunque molta gente sta uscendo dalla caverna e che la gente comincia a capire che stiamo vivendo una sottomissione americana e che cosa vuol dire l'imperialismo americano, che la mondializzazione non è mondializzazione. La mondializzazione è una cavolata per vendere l'imperialismo americano. La distruzione delle nostre culture, la distruzione della cultura italiana, la distruzione della cultura francese, di quello che noi siamo, con tutti i nostri errori. Comunque la cultura di un paese, di un popolo che aveva le sue fondazioni a Roma. Noi, non le fondazioni legate al numerico, ma fondazioni di grande cultura. E tutto questo sta morendo. E questo sta morendo. E il popolo italiano si vede che sta perdendo una cultura, poiché in realtà il popolo italiano ormai non pensa che solo i soldi. Solo i soldi sono il grande dilemma. I soldi. Ma qual è la filosofia di vita? Qual è la filosofia che caratterizza oggi la Francia, l'Italia? Perché ci alziamo al mattino? Per quale ragione oggi ci alziamo al mattino, ci battiamo, lavoriamo? Solamente per guadagnare dei soldi, andare a fare la spesa o per essere sulla terra per compiere qualche cosa, per avere un sogno, un mito, un ideale filosofico, ricercare una concezione della vita in società che ci permetta di avere quello che viene chiamato non solamente un benessere fisico, ma anche un benessere mentale. Io ho l'impressione di avere oggi molta gente attorno a noi, che sono persone che si alzano al mattino con una sola angoscia, come dare da mangiare ai bambini, ma non hanno la gioia, il piacere di vivere, perché la vita è diventata un grande fardello. Quindi credo che questo meccanismo, che è un meccanismo che era stato preconizzato dalla Chiesa, quando la Chiesa si batteva contro la ricchezza, però era quella che dava il più brutto segno, poiché il Vaticano nell'oppurenza diceva alla gente, vivete nella povertà, non fate del denaro il vostro Dio. Però oggi dobbiamo noi, al di fuori di ogni religione, al di fuori di ogni Chiesa, ricercare in una forma laica, senza papi, senza dei, senza imam, ricercare una nuova filosofia della nostra vita sociale e non solamente identificata in un meccanismo numerico. Oggi si parla del numerico quando ci sono gente ancora che nel Belice non li hanno ricostruito la casa, si parla del numerico in Italia quando ci sono a Amantea persone che sono ancora senza tetto, quando all'Aquila non sono finiti i lavori, quando a Napoli ci sono ancora delle fogne che sono aperte, quando ci sono dei quartieri in Sicilia, a Palermo, attorno a Roma che sono di uno squallore mostruoso, quando abbiamo un urbanismo catastrofico, quando abbiamo l'urbanismo catastrofico di Napoli, di Roma, di città come anche a Milano, che hanno comunque ed hanno comunque, sono criminogene poiché la gente cresce in zone che sono sanamente, sono prive di servizi sociali, prive di umanità. E parliamo di numerico, parliamo di questa elite che sta distruggendo il mondo. Io faccio parte dell'elite, lo riconosco, ho studiato alla Sorbona, ho fatto un dottorato, insegnato, potevo vivere nell'elite perché comunque da avvocato, con bella clientela, con tutto lo studio, però mi sono detto questa non è la mia vita. Io ho avuto la fortuna di studiare perché mi sono battuto facendo il cameriere di notte perché sono arrivato come emigrato in questo paese che mi ha dato 30 anni fa la possibilità di poter diventare avvocato, però non per diventare un'elite che dirige gli altri, ma sono avvocato e uomo che vuole servire con una missione anche quelli che non stanno bene, quelli che possono avere bisogno di uscire dalla caverna. E io contro questa elite che mi batto, contro questa elite che vive in maniera totalmente surreale, in una plutocrazia che sta distruggendo quelli che sono i popoli, che sono ormai, come dicono loro nel loro linguaggio, dei mangiamerda. Ebbene io voglio mettermi dal lato dei mangiamerda, perché ho la fortuna di mangiare, di aver mangiato anche troppo e per questo che sto dimagrando, perché effettivamente voglio essere un mangiamerda, a fianco di coloro che stanno male, a fianco di coloro che si battono e a fianco di coloro che purtroppo corrono a comprare un telefonino, ma non si rendono conto che effettivamente stanno privando alla loro esistenza di quelli che sono i valori essenziali, l'amore, la vita, il prossimo, condividere delle passioni, condividere le gioie, condividere l'arte, condividere la cultura, condividere la polisia, condividere la letteratura. Invece tutto ciò sta, malheureusement, purtroppo scomparendo. Senti Carlo, possiamo dire che questo passaggio al Green Pass, questa introduzione con la scusa pandemica del Green Pass è una strategia che apre la strada al transumanesimo? Ma certo, ma il transumanesimo, io ho un'analisi semantica un po' diversa da quello che viene utilizzato in maniera corrente, il transumanesimo dice, ah Schwab eccetera, questa gente vuole creare un transumanesimo, ma il transumanesimo prima di tutto è in coloro che fanno parte dell'elite, che non si considerano umani, loro stessi si considerano al di fuori di questa umanità. Quindi il transumanesimo, la loro visione nella quale sperano un giorno di poter essere eterni, è questo il transumanesimo primario, poiché loro stessi si considerano un'umanità differente e diversa. Quindi il transumanesimo poi lo ripercuotono dicendo voi, e io vi impongo ciò che io considero oggi la nuova normativa umana, nella quale non c'è più posto per il sentimento, non dovete più essere dei soggetti di diritto, voi dovete essere degli oggetti di diritto, la visione egliana della società viene riscontrata dall'elite, perché anche Platone parla dell'elite, parla di elite filosofica che deve gestire la Repubblica, l'elite filosofica è sostituita dall'elite transumana, perché quando la gente, quando questi vivono pensando allo spazio, alla conquista dello spazio, alla vita in altri pianeti, eccetera, siamo già in una forma di transumanesimo, perché il transumanesimo vuol dire noi, sulla nostra terra, legati alla natura, legati alla natura, filosoficamente parlando, di cui facciamo parte, e invece loro vogliono estrarci dalla natura, la numerizzazione, il numerico, vuol dire estrarci dalla natura, perché la natura non è numerica, anche se tentano di fare le modifiche genetiche, la natura non è numerica, un tsunami, una tempesta, un ciclone non è numerico, è la natura, nella sua devastazione e nella sua bellezza, e l'uomo deve vivere nella sua devastazione la vita e la morte, parte integrante dell'esistenza, perché noi non siamo eterni, e vorrei su questo punto ricordare la poesia di Totò, la livella, perché forse la livella è proprio il messaggio non antitransumanesimo, poiché quando moriamo che tu sei marchese o che sei uno spazzino, ti ritroverai lo stesso livello. Sposito al Gennaro si chiamava il neturbino della livella di Totò, ti ringrazio tantissimo. Era di fronte al Marchese, ardimentoso, eroe di mille imprese, morto mi pare l'11 maggio del 21. Va bene, senti Carlo, per concludere questa importante intervista, quelli che contestano questa ricostruzione che tu fai e la valutano alla stregua diciamo di un vaniloquio, quasi che fosse diciamo l'estremizzazione grottesca di tutte le paure di una popolazione insipiente, insomma così il mainstream presenta queste chiavi di lettura, e dicono ma alla fine insomma avete strillato tanto, ma il Green Pass è stato levato, non c'è più, quindi il vostro complottismo è caduto. In realtà in Italia c'è ancora perché per andare negli ospedali, per andare nell'RSA serve, è stato solo sospeso, non è stato cancellato e ancora i bambini in questo momento vengono mandati a scuola con le mascherine con 30 gradi. Ecco cosa rispondi tu a quelli che dicono vabbè siete stati smentiti, il Green Pass non esiste più, quindi siete di fatto, insomma avete detto delle menzogne? Allora queste persone non vivono nello stesso pianeta, tu stesso l'hai detto il Green Pass è ancora mantenuto anche in Francia, se tu non hai uno schema vaccinale completo oppure un test antigenico o un RT-PCR, non puoi entrare in un ospedale e non puoi rendere visita alla tua mamma in una casa di riposo, quindi esiste sempre. Secondo punto, esiste sempre la vaccinazione obbligatoria che è un Green Pass per coloro che operano nel settore sanitario, nonché i militari, gendarmeria e nonché i militari, quindi vuol dire che non è stato assolutamente tolto, siamo comunque sempre in una discriminazione fondata sulla salute. Non dimentichiamoci che l'Unione Europea sta lavorando su una modifica che non dovrebbe entrare in vigore alla fine del mese di giugno su uno famoso regolamento del 14 giugno in cui il famoso passaporto vaccinale europeo non scomparirà ma diventerà quasi una formula acquisita quando uno vorrà viaggiare in aereo. Quindi nel momento in cui sto parlando ho prima constatazione, lo stato d'urgenza non è stato tolto, seconda constatazione abbiamo una sospensione di quelli che sono stati i mezzi di controllo e che i mezzi di controllo non sono stati assolutamente tolti ma sono comunque sempre presenti. E aggiungo per i poveri bambini che a 30 gradi vanno con le mascherine, ricordo a tutti i tuoi spettatori e telespettatori e amici che giuridicamente parlando sul piano sanitario non esiste nessuna definizione che la mascherina protegge contro la trasmissione dei virus poiché sulle scatole, su ogni mascherina non c'è scritto che ti protegge dai virus ma ti protegge eventualmente dai batteri poiché le maglie sono troppo grandi per poter impedire il passaggio virale. E secondo punto anche le mascherine contengono degli elementi che sono pericolosi per la salute che i bambini, io ho la prova tangibile con certificazione dell'ufficiale giudiziario che quando portano la mascherina riducono la loro capacità respiratoria creando quella che viene chiamata l'ipoxia cioè una situazione di saturazione in ossigeno inferiore a quello che è normalmente ammessibile cioè 98-99 i bambini certi si trovano a meno di 95 certi ancora meno di 90 alle 3 e 4 del pomeriggio ora c'è un'altra situazione di ipercapnia cioè una situazione in cui i bambini mancano di ossigeno a livello cerebrale e ciò crea delle disfunzioni cerebrali e provoca un gonfiamento del cervello che si spinge contro le pareti del cranio. Tutto ciò non si può misurare oggi, si può misurare con l'ipoxia o l'ipercapnia ma quello che è importantissimo è che oggi avremo delle sequele delle sequele per quanto riguarda le connessioni neuroniche delle sequele per quanto riguarda la crescita dei bambini e i molti molti pediatri che non sono dei comprottisti hanno già effettivamente gridato a questo scandalo sanitario le cui prove le avremo nei mesi e negli anni a venire. Grazie per essere stato con noi. Grazie caro Toscano, grazie di avermi invitato e sono veramente a vostra disposizione ogni volta che lo volete perché è sempre un piacere essere intervistato da te. Ecco il piacere è reciproco, grazie ancora grazie amici di Visione TV per averci ascoltato anche oggi vi ricordo che noi siamo liberi di cercare la verità perché viviamo solo grazie alle vostre donazioni non abbiamo finanziatori esterni viviamo solo grazie al vostro sostegno aiutateci con bonifico con PayPal oppure andate sul nostro sito www.visionedv.it e abbonatevi grazie ancora una buona giornata a presto a presto